Buon tento, soddisfatto, avevamo la necessità di testarci in una gara, una gara presente degli aspetti che gli elementi non possono entrare, quindi l'aspetto dell'emozione oggi è un aspetto che in un certo momento abbiamo contattato, soprattutto nel punto a punto e lì soprattutto sui più giovani si sono visti degli aspetti interessanti che ero curioso di scoprire. Sono contento di come ci sono stati, hanno avuto ordine e disciplina su tutto quello che abbiamo lavorato in questo lungo periodo e domani avremo sicuramente dati nuovi e freschi su quali poter iniziare a lavorare. Grazie.